Ciao e bentornati sul mio canale. Se l'ultima volta vi ho parlato di un gioco che è stato appena sfornato grazie a Kickstarter, quest'oggi vi parlerò invece di un Kickstarter che è appena partito. Si tratta di Scourge of the Seas, eccolo qui, e si tratta di un gioco a tema piratesco da 2 a 6 giocatori, in cui bisogna arruolare pirati e poi partire all'avventura per diventare il più pericoloso e famigerato pirata dei sette mali. Andiamo quindi subito a vedere il setup Corpo di Mille Balene. Prima di cominciare è bene precisare che il gioco mi è stato fornito in versione print and play, quindi il materiale ovviamente sarà completamente differente una volta che il Kickstarter avrà successo. Per prima cosa quindi si prende il carta a caso e si guarda l'immagine. Il giocatore che sarà più somigliante all'immagine del capitano sarà il primo giocatore per tutta la partita. L'ordine di turno serve per determinare con che ordine appunto vengono risolti gli eventi attorno al tavolo. Dopo aver fatto ciò si rimescola la carta nel mazzo dei capitani e ogni giocatore prende due carte. Ne sceglie una e questa sarà la sua carta capitano per il resto della partita. Ogni carta capitano ha un valore di manovra, di fuga e un'abilità che può essere passiva oppure utilizzata quando si affatica appunto il capitano. Al di là dell'abilità peculiare che differenzia tutti i capitani vedremo poi cosa significano i valori di manovra. Ogni giocatore prende poi una plancia della nave, vi sistema il suo capitano in uno degli spazi vuoti, ad esempio qui, poi prende tre segnalini e ne mette uno sulla casella 8 dello scafo e uno vicino alla sezione bottino e la sezione fama. Vengono poi preparati il mazzo terra, il mazzo mare e il mazzo degli oggetti. Viene poi lasciato uno spazio per il mazzo neofragio e per i relativi scarti dei vari mazzi. Vengono poi posizionati a parte i dadi e i due medaglioni che verranno utilizzati durante la partita. A questo punto si può cominciare. La partita si svolge in una serie di round in cui i giocatori devono cercare di potenziare la propria nave con la peggiore feccia presente nei sette mari e magari anche utilizzando gli oggetti che si possono guadagnare per migliorare la nave o comunque mettere i bastoni fra le ruote ai capitani avversari. All'inizio di un turno tutti i giocatori devono dichiarare se rimangono a terra o se prendono il mare. Nel caso un giocatore rimanga a terra pesca dal mazzo terra. Se invece decide di andare per mare pesca guarda un po' dal mazzo mare. Quindi partendo dal primo giocatore tutti pescano una carta dal mazzo appropriato a seconda della scelta fatta. La carta pescata va subito rivelata e vengono risolte sempre dal primo giocatore e andando poi in senso orario. Andiamo quindi a vedere cosa si può trovare a seconda del mazzo da cui si pesca. Quando un giocatore pesca una carta da taverna bisogna innanzitutto vedere se anche altri giocatori hanno pescato la stessa carta da taverna. Se ciò avviene scoppia una rissa fra le ciurme presenti nella stessa taverna. Ogni carta da taverna infatti è presente in triplice coppia nel mazzo terra. Tutti i giocatori coinvolti nella rissa tirano un dado da 6 e aggiungono il valore uscito al numero di pirati di cui è composta propria ciurma. In questo caso quindi 6. Il giocatore vincitore può rubare una carta pirata dalla ciurma degli avversari. Dopodiché si può procedere alla fase successiva ovvero si può decidere se arruolare un pirata oppure attivare l'abilità della taverna. Quindi se si decide di arruolare questo pirata bisogna avvolgere una delle tre azioni indicate qui sotto ovvero tirare un dado e avere un risultato di 4 o più, togliere due loot dalla propria riserva oppure scambiare un pirata che si ha in ciurma con questo. Una volta arruolato il pirata lo si mette sulla nave dove si vuole in uno spazio libero ovviamente. Da questo momento in poi avremo a disposizione la sua abilità che potremmo utilizzare alla bisogna. La scritta fatica indica il fatto che per utilizzarlo bisogna girarlo e finché il pirata rimane girato la sua abilità non sarà più disponibile. L'abilità ritornerà disponibile una volta che si decide di tornare a terra e quindi pescare una carta dal mazzo terra. In alternativa a soldare la pirata si può utilizzare l'abilità della taverna. Normalmente sono abilità che interagiscono con i capitani avversari e che quindi possono avvantaggiarti oppure svantaggiare gli altri. Se un giocatore pesca dal mazzo terra un evento viene risolto immediatamente. Gli eventi sono delle azioni che normalmente ti mettono in situazione di vantaggio o che vanno a svantaggiare i capitani avversari. Quando ci si sente abbastanza pronti si può decidere andare per mare. In questo caso si pesca quindi dal mazzo mare. Quando si pesca una nave bisogna controllare che altri capitani non abbiano la stessa nave davanti a sé. Anche in questo caso infatti esistono tre copie di ogni nave presenti nel mazzo mare. Nel caso in cui due o più giocatori abbiano di fronte a sé la stessa nave prima di poter affrontare la carta nave i giocatori devono effettuare una battaglia navale fra di loro. I due giocatori con la fama più alta, l'eventuale terzo è costretto a fuggire, devono prendere ciascuno un medaglione. Lo nascondono fra le mani e poi decidono se giocarlo oppure no. Nel caso in cui un giocatore non l'abbia giocato quel giocatore fuggirà e la nave spetterà al giocatore appunto che ha il medaglione in mano. Se però entrambi i giocatori hanno deciso di tenere il medaglione in mano dovranno combattere fra di loro prima di poter affrontare la carta nave. A questo punto entrambi i giocatori dovranno eseguire un test di manovra ovvero lanciare un dado e aggiungere il valore in manovra del proprio capitano più eventuali bonus. Il vincitore, in questo caso la barca di destra, potrà decidere da che lato attaccare l'avversario. Le navi verranno girate di conseguenza e a questo punto si può cominciare con l'attacco. Durante il turno di combattimento tutti i cannoni occupati da un pirata e rivolti verso la nave avversaria spareranno un proiettile. Si lancia un dado, un risultato di 1, 2, 3 è mancato, 4, 5, 6 invece è colpito. Ogni risultato di colpito fa un danno allo scafo della nave avversaria. Alla fine del turno di combattimento entrambi i giocatori possono spostare uno dei propri pirati di uno spazio oppure eventualmente scambiarne due adiacenti di posto. A tal proposito tutti gli spazi di una colonna sono considerati adiacenti a quelli di un'altra. Potremmo perciò fare un movimento da qui a qui ad esempio. Dopodiché si continua con il combattimento con le modalità appena viste. La battaglia navale prosegue finché una delle due navi non affonda o finché uno dei due contendenti non fugge. La nave affonda quando vengono persi tutti i punti scafo. Quando ciò avviene il giocatore sconfitto deve mettere uno dei propri pirati nel mazzo dei naufraghi. Fa eccezione il capitano che non può mai morire né essere scartato. Dopodiché perde tutti i punti bottino tranne due e il turno successivo potrà riparare completamente la nave e sarà costretto a pescare dal mazzo terra. Per fuggire bisogna invece fare una prova di fuga. Durante il turno di fuga i cannoni non sparano. Il giocatore che vuole fuggire deve tirare un dado e fare un risultato minore alla somma del valore di fuga del proprio capitano più il numero di pirati presenti al centro della nave. In questo caso quindi deve tirare e fare meno o uguale a due. Se la fuga ha successo la battaglia termina altrimenti continua normalmente. In ogni caso comunque la nave vincitrice guadagna un punto fama. Vediamo ora invece come funziona la battaglia contro una carta nave. Il giocatore prima di tutto deve effettuare un test di manovra. In questo caso tuttavia deve raggiungere o superare il valore di manovra indicato dalla barca avversaria. In questo caso ha fatto 9 e quindi ha successo. Sulle carte barca vengono indicati i cannoni presenti da un lato e dall'altro della nave. Quindi in caso di successo sul test di manovra allora sa lui a decidere come posizionare la carta nave in base alla propria barca. Se invece il test viene fallito saranno gli avversari a posizionarla in modo a loro più conveniente. Il combattimento navale con una carta nave funziona allo stesso modo che con gli altri giocatori. L'unica differenza è che bisogna cercare di fare un numero di danni pari o superiore alla resistenza presente sulla carta barca. Se la carta barca viene sconfitta il giocatore guadagna un punto fama e ottiene quanto indicato nella sezione ricompensa della carta barca. In questo caso due bottini ottiene una carta oggetto pirata. Vediamo quindi ora come funzionano. Le carte oggetto pirata quando pescate vengono tenute in mano dal giocatore. Ogni giocatore può tenerle in mano a massimo 3 e se deve pescare una quarta deve decidere se scartarne una o giocarle immediatamente. Gli oggetti pirata possono essere utilizzati in qualsiasi momento durante la partita e alcuni di esse hanno anche più cariche. Un'altra cosa che si può pescare dal mazzo mare sono le carte forte. Le carte forte sono come le carte nave solo che non è necessario fare un test di manovra per abbordarle. Le si può quindi posizionare sul lato che più conviene al giocatore che comanda la nave. Un'altra differenza è che le carte forte normalmente sono più potenti rispetto alle carte nave quindi un giocatore con fama 5 o meno può decidere di fuggire prima dello scontro se non si sente preparato alla sufficienza. Le carte forte hanno molto spesso stampato questo simbolo ovvero il mortaio. Questo è un cannone particolarmente potente che colpisce solo durante il primo round di combattimento ma che fa immediatamente due danni allo scafo della nave avversaria. Nei turni successivi questo cannone non sparerà più. Anche sconfiggere una carta forte fornisce un punto fama. Anche nel mazzo del mare si possono pescare eventi nel qual caso vengono attivati non appena tocca al giocatore che l'ha pescato. In questo caso la carta holandese volante obbliga chi la pesca a mettere nel mazzo naufraghi un pirata a propria scelta. L'ultimo tipo di carta che può essere pescata dal mazzo mare è il mostro marino. Anche le carte mostro marino quando pescate possono essere ignorate quindi essere scartate nel relativo mazzo se si decide di non affrontarlo. Una volta però presa la decisione di combatterlo non si può fuggire dal mostro marino. Inizierà quindi un combattimento che sarà diversa a seconda del mostro marino che si affronta. Ogni mostro infatti ha un'abilità peculiare che rende diversa una battaglia fra un mostro marino e un altro. Anche in questo caso il combattimento si divide in turni però essendo il mostro marino enorme si possono utilizzare anche tutti e quattro i cannoni se opportunamente occupati da pirati. Sconfiggere un mostro fornisce due punti fama. Inoltre una volta battuto si può tenerne il trofeo. La carta viene posizionata vicino alla barca e potrà essere utilizzata nelle taverne per guadagnare punti fama ulteriori. Una volta che tutti i giocatori hanno affrontato la carta che hanno pescato si ricomincia con un'altra pesca. La partita prosegue finché un giocatore non raggiunge 10 punti fama quando ciò accade verrà dichiarato vincitore e piaga indiscussa dei sette mari. Come avete visto il gioco non ha poche regole però sono tutte molto facili da capire. L'ambientazione piratesca è resa molto bene sia per quanto riguarda le illustrazioni sia proprio per le meccaniche in gioco. Risieda taverna, battaglia navale, mostri marini c'è tutto. A proposito delle battaglie navali mi ha stupito molto la loro gestione che trovo veramente ben sviluppata. Ora come al solito vi ringrazio per avermi visto fino a qui. Se avete dubbi domande o commenti potete scrivermi e vedrò di rispondervi quanto prima. Ora vi saluto e vi auguro buon gioco. Ciao!